Ben trovati! In questa prima ricetta del nuovo anno cucineremo un piatto semplice, rustico, che va dritto al sodo senza fronzoli, con ingredienti facilmente reperibili e che abbiamo sempre nel frigo. Avremo bisogno di un po' di erbe aromatiche, tra cui alloro, timo, del prezzemolo, peperoncino, linguine, cipolle dorate, pepe nero, un bicchiere di vino bianco, sale, guanciale, pecorino romano e vediamo se servirà un pochino d'olio evo. Partiamo subito dal guanciale. Tolgo la cotenna, il pepe e lo taglio a cubetti. Fiamma bassa e lo facciamo sudare in padella, finché avrà questo aspetto, tenendo da parte il suo grasso di cottura. E ora occupiamoci delle cipolle. l'affettiamo il più finemente possibile e la faremo cuocere per 30 minuti, finché sarà morbida. unisco le erbe aromatiche, il sale, il vino bianco. Possiamo togliere l'alloro con il timo e una volta evaporato l'alcol quando è necessario, aggiungiamo un mestolo di acqua calda non ancora salata, un po' di pepe nero e adesso andremo a frullare metà della cipolla. Uniamo a piacere anche del peperoncino, saliamo l'acqua e caliamo gli spaghetti. li scolo bene al dente e completiamo la cottura. uniamo anche il prezzemolo fresco un giro d'olio evo della nostra terra e siamo pronti per andare in tavola non prima però di abbondare con il pecorino romano buoni e super sostanziosi. Mi piacciono molto i primi essenziali ma ricchi di gusto. La dolcezza della cipolla si sposa benissimo con il guanciale e il pecorino. Può essere considerato anche come piatto unico. Buon anno a tutti e alla prossima ricetta! buon anno buon anno